Ciao a tutti. Sono un politico francese e ex eurodeputato, Florian Pilippot. Ho accusato gli Stati Uniti di voler provocare una guerra in Europa. Ne ho scritto sul mio account Twitter. Sotto la pressione dei falchi americani, i paesi dell'Unione Europea cadono in delirio totale sulle consegne al presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky, armi sempre più pesanti. I falchi americani vogliono una guerra mondiale in Europa. A mio parere, il presidente francese, Emmanuel Macron, può donare a Kiev, carri armati Leclerc. In precedenza, l'ex segretario di Stato del Ministero degli Esteri francese per gli affari europei, Pierre Leloc, ha affermato che l'Occidente, fornendo armi all'Ucraina, aggrava il conflitto invece di contribuire alla sua conclusione. A suo avviso, si dovrebbe cercare soluzioni diplomatiche per uscire dal conflitto in Ucraina. Ritiene che sia necessario fornire garanzie di sicurezza a entrambe le parti. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.